ok ragazzi questa è la posizione esatta ci troviamo esattamente qui dentro questa casa vi faccio subito vedere dentro questa casa frutteto entriamo qua dentro e dove c'è la cucina c'è il cesto di pomodori ragazzi ci basterà solché interagire e la missione sarà bella che comprate ragazzi come sempre spero che il video vi sia stato utile ragazzi bella la prossima